Il nostro partito ha investito dei soldi in Tanzania, questa è una semplice provocazione. Cos'è una forma di protesta? Una forma di protesta della base. Contro questi presunti affari? Sì, contro questi investimenti secondo noi non corretti. È arrabbiato per questa faccenda della Tanzania? Che bel sito ci ridia i soldi che ha portato in Tanzania, magari con l'obiettivo di perderli. Sono i soldi delle sezioni, sono i nostri soldi e un calabrese non ha il diritto di portarli in Tanzania e di investirli là.